ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video era l'agosto del 2022 si erano sentite varie notizie di biker purtroppo rimasti fulminati sulle montagne e nonostante questo io sono partito con i miei due figli a esplorare un luogo bellissimo della calabria monte trepizzi quel giorno il tempo era abbastanza incerto e fino all'ultimo momento ero indeciso se andare o no guardando le montagne alla fine sembrava che le nuvole stessero andando verso le montagne più alte non verso il mare allora poi abbiamo deciso di andare speriamo che questo temporale non si prenda siamo in mezzo a una nuvola se non lei capisce no siamo sopra ora siamo proprio in mezzo quindi c'è una grande paura se si abbassano così no adesso l'abbiamo superato non succede niente no se siamo sopra la nuvola non mi sento tranquillo vai a questo punto direi che siamo abbastanza in grappola dovevamo pensarsi prima se l'abbiamo proprio vicino ci faccio il temporale è alle nostre spalle secondo me ci sta tipo seguendo lo stalker adesso attenzione che questo qua è un po dove sta si si l'ho visto l'ho visto l'ho visto perché hanno messo la riviera se qualcuno di noi si dirittano i capelli tipo così a me no ci dai dai passa veloce qua se a me si dirittano i capelli l'hanno la donna è morta dai vai momento sbagliato vedi qua vedi è bricolosa qua vedi qua adesso un dirupone perché comunque qua il sentiero è già più largo dove si passa da qui da qui da sinistra a sinistra devi sempre star lontano da vedi qua non è se non che vedi qua sono mattoni quelli ma sembra mattoni quelli a me quali infatti è quello è un pezzo del monastro ah dovremmo che c'è andiamo dovremmo fare questo dovremmo fare scusate scusate e Grazie a tutti. 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 il Cinquecento, secolo in cui venne proibito il rito greco. Prima del Cinquecento, infatti, tutti i documenti erano in greco e il rito era quello ortodosso. Da alcuni antichi rogiti rileviamo che il nome di tre pizzi era Treis Litous Futeutous, che significa le tre pietre alberate. Nella mappa caraffa del 1783 leggiamo invece che Montetrepizzi era anche amato le Rocche di Trillis e Trillis sembra proprio derivare dalla parola Treis Litous. Vedi, lì era un punto d'avvistamento perché da lì vedevano quando tu passavi qua, hai capito perché? Quella specie di abamposto lì, per vivere, per vedere quando tu arrivavi qua, poi loro davano l'analisi. Ma quindi i monaci erano così tanto forti? Ma quindi i monaci erano forti, cioè erano abbastanza forti come esercito, tra virgolette. E poi perché venivano ad ucciderli? E poi perché venivano ad ucciderli? E poi perché venivano ad ucciderli? Poveracci che erano! Poveracci che erano! Ritirati! Eh, ma hai visto dove si venivano ai boccari? Ah! Sulla pedisano si legge. Chiesa di San Pietro e Paolo. Era situata sul Monte Tre Dita, cosiddetto per la forma di tre diti aperti. La chiesetta aveva il romitorio e vi dimorava un'eremita. Era stata edificata dall'arciprete Antonio Parrelli. Il vescovo Rossi, il 17 marzo 1751, intervenne alla posa della prima pietra. ed il 4 ottobre 1753, dallo stesso fu benedetta e vi celebrò per la prima volta la Santa Messa. Oggi si vedono i ruderi. Vediamo brevemente le conclusioni di Domenico Minuto, basate su documenti medievali che parlano di questa area. Anticamente Monte Trepizzi aveva tre nomi. Grande Pietra, Tre Pietre Alberate, Pietra Alberata. Nel Medioevo, attorno al XII secolo, sorgeva nell'area dei Trepizzi un monastero di rito greco, intitolato a San Pietro e Paolo. La cui chiesetta venne ricostruita a metà del 1700 e vi ci svolgeva una fiera annuale, che è proseguita fino al 1951, anno in cui il sito fu abbandonato a causa di una forte alluvione. Ed ora le mie ipotesi. Le fonti scarseggiano e non ci danno certezze, ma un'idea me la sono fatta. Per me questo luogo era un monastero bizantino fortificato, capace di accogliere la gente dei paesi sottostanti, in caso di pericolo dal mare. Monte Trepizzi mi ricorda molto Pietracastello a San Luca. Ricordiamoci che siamo a circa 700 metri di altezza, in un luogo che oggi sembra facile da raggiungere, ma senza indicazioni doveva essere difficile orientarsi ed immaginare che proprio in cima ci fosse una comunità. Il luogo dove sorge domina un ampio tratto di costa, si vedono Gerace, Condoianni, Antonimina e Ciminà, ed ha solo due vie d'accesso piuttosto impervie. Per questo è un luogo strategico e difendibile, perché ha praticamente un solo lato di accesso sbarrato da mura, che proteggevano sia da animali selvatici che da eventuali invasori. Inoltre aggiungerei che essendo sotto gli alberi l'insediamento non si vede da lontano, quindi permette di vedere senza essere visti. Nella parte superiore della rupe ci sono delle cavità naturali nella roccia che imprigionano l'acqua piovana e che potevano fungere da cisterne. I terrazzamenti sotto il lato est della rupe, proprio sopra la parete strapiombante, potevano servire sia per l'agricoltura che per ripararsi sotto la vegetazione. Infine non ha da trascurare la bellezza del luogo che trasmette una profonda pace e quiete, grazie alla forza incredibile della natura e delle viste mozzafiato su quelli che sembrano i resti di un antichissimo vulcano. E questo lo rende adatto sicuramente anche alla quiete e alla meditazione di un monaco. Questo è un luogo incredibile. Solo visitandolo lo potrai capire davvero. Se questo video ti è piaciuto lascia un like ed iscriviti al mio canale. Il tuo supporto è molto importante per me. Grazie!